Maurizio Bergoni, questo 2023 si chiude con un'importante notizia, un bellissimo risultato per voi che avete questa passione, che lavorate per la solidarietà e vedere una nuova donazione vuol dire che il risultato è stato raggiunto. Sì, è stato un bel regalo di Natale, ma è emozionato molto perché dopo due o tre anni che non avevamo più una persona compatibile, questa volta siamo stati fortunatissimi che è arrivato il quindicesimo donatore di tutti gli anni che noi siamo sul territorio per cercare futuri donatori. Infatti il lunedì scorso, proprio il 18 di dicembre, ha donato il quindicesimo donatore dell'associazione, perché per noi è stato un regalo importante, ma non per noi, ma soprattutto per chi ha donato e per chi poi riceverà il nuovo midollo osseo. Questa è una cosa a noi molto importante perché lavoriamo proprio su questo tema per cercare di trovare futuri donatori in modo tale che facciano altri regali al di là dell'evento che è proprio il giorno di Natale, che è un evento molto importante. Questa donazione è nata nel corso di una delle vostre tante iniziative legate tra l'altro al territorio. Sì, esatto. Noi diciamo così, faccio un po' resoconto del 2023 che cosa abbiamo fatto, perché essendo usciti poi dal periodo Covid è stato un po' difficile riprendere l'attività. Però noi piano piano ci siamo riusciti e abbiamo raggiunto in totale 1.570 persone future donatrici. Sappiamo benissimo che la percentuale è di 1 a 100 mila, noi con la quindicesima donazione che abbiamo avuto in questa settimana abbiamo abbassato la percentuale da 1 a 100 perché abbiamo raccolto 1.570. Fate voi il calcolo della percentuale, siamo fortunati, non lo so, forse qui in Bergamasca il Midoloso va benissimo, è compatibile con altra gente, però quantomeno ci dà la possibilità con questi risultati di essere tranquilli e di vivere ancora un'esperienza per le future donatrici e dare delle idee anche ai futuri donatrici. Abbiamo dato l'idea dell'unità mobile che è una cosa importante, da lì siamo riusciti. Poi abbiamo dato un'idea di un centro donazione qui a un centro medico di Albino, il secondo e il quarto lunedì di ogni mese, dalle 16 alle 18 siamo disponibili sempre su prenotazione per fare questi prelievi. Stiamo facendo di tutto in modo tale di arrivare nel cuore della gente, soprattutto ai ragazzi dai 15 ai 35 anni, per essere i futuri donatori. È un lavoro enorme, abbiamo aumentato anche le nostre presenze nelle scuole superiori. Questo è molto importante. Alcune scuole ci danno il permesso anche di fare i prelievi, non tutti, però quantomeno è tutto un ciclo che ci dà la forza di continuare su questo lavoro molto importante. Quest'anno per esempio abbiamo finito le campagne di sensibilizzazione e i prelievi della Val Cavallina. L'anno prossimo partiremo e andremo nella bassa, sempre in collegamento col centro trasfusionale di Bergamo, che sono loro i responsabili sanitari del lavoro che noi stiamo facendo.